buongiorno ragazzi e ragazzi nuovissimo video come vedete vi sto mostrando il cassettino della lavatrice perché il mese scorso ho dovuto saltare la manutenzione della lavatrice a causa del battesimo di tanti altri impegni e poi perché mi voglio agganciare ad alcuni di voi che mi hanno chiesto come mai rimane l'acqua nella vaschetta dell'armorbidente le cause fondamentalmente possono essere due o è otturato il tubicino proprio della vaschetta dell'ammorbidente come vedete qui da me c'è depositato un bel po di residuo di ammorbidente perché ammorbidente fondamentalmente è grasso è oleoso perciò tende a depositarsi oppure togliendo la vaschettina ora ve lo mostro dove esce e l'acqua possono essersi otturati quei fori quindi la prima cosa da fare è togliere la vaschetta ed effettuare una pulizia profonda come vedete la mia è molto sporca proprio perché ho saltato un mese di manutenzione e non deve mai ridursi così altrimenti poi non viene bene neanche il bucato allora ho tolto il tappino vedete questo foro all'interno c'è un po di deposito di ammorbidente utilizzo uno sgrassatore che è anche igienizzante e pulisce a fondo e lascio un attimo agire poi procedo nella pulizia proprio profonda del cassettino perché è molto molto sporco mi aiuto con una spugnetta e la utilizzo dal lato diciamo quello più ruvido proprio perché da me c'è proprio molto molto sporco a volte utilizzo anche un vecchio spazzolino ma in questo caso proprio bisogno della spugna grazie a tutti passate anche l'acqua proprio all'interno del foro della vaschetta in modo tale che almeno si toglie tutto l'ammorbidente che è rimasto all'interno questa è la parte anche che va pulita altrimenti rimane l'acqua perché i fori non sono ben liberi e quindi vanno puliti perfettamente adesso spruzzato lo sgrassatore lascio agire qualche minuto e poi sempre con la spugnetta passo per bene per rimuovere totalmente tutta la sporcizia i residui di detersivo eccetera eccetera ok finalmente ci siamo sono riuscita a togliere tutta la sporcizia quindi rimonto il cassettino e adesso vedrete che l'acqua non rimarrà più accumulata nella vaschetta perciò i motivi sono due pulire la vaschetta il tubicino dell'ammorbidente e togliere il cassettino e pulire i fori all'interno del cassettino a questo punto concludo il video spero di esservi stata utile ci vediamo molto presto con nuove novità lasciatemi un like per sostenermi iscrivetevi al canale e chi mi vuole seguire su instagram e tiktok mi trova come federicasuit02 un bacione ciao